Buongiorno, bentrovati, buon sabato 3 luglio, festa dell'Apostolo San Tommaso. Augure a chi porta questo nome. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore, ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Otto giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse, perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore. Oggi ricordiamo San Tommaso Apostolo. Il Vangelo appena proclamato è l'episodio più famoso in cui Tommaso è coinvolto. Egli era assente all'apparizione del risorto e incontra e riconosce Gesù risorto solo otto giorni dopo, quando di nuovo il risorto appare agli Apostoli. otto giorni dopo era ancora domenica. La domenica, giorno del Signore, giorno dell'Eucaristia, l'ha voluto Gesù risorto. E Tommaso riconosce il Signore vedendo le sue ferite, il suo fianco trafitto. Riconosce Gesù come il vincitore della morte perché il Signore risorto porta ancora quelle ferite d'amore che sono le porte che ci dischiudono l'ingresso nel mistero dell'amore di Dio. Tommaso ha fede perché vede l'uomo, vede un uomo risorto, ma riconosce che costui è veramente Dio. Ed in effetti Tommaso è il primo tra gli Apostoli, stando ai Vangeli, a chiamare Gesù mio Dio. Come sono belle le parole mio Signore e mio Dio. Facciamola ai nostri, tutte le volte che andiamo a Messa e andiamoci spesso, almeno tutte le domeniche, quando il sacerdote eleva l'ostia, quando il sacerdote eleva il calice, diciamo anche noi, mio Signore e mio Dio. Non vediamo le ferite, non vediamo un corpo risorto, ma riconosciamo che lì, nella Santissima Eucaristia, è presente veramente il Signore e il Dio. Gesù Cristo, nostro Salvatore. Ancora, San Tommaso, secondo la tradizione, fu uno straordinario missionario. Andò fino in India a portare il Vangelo. Quando i portoghesi nel XVI secolo giunsero in India, incontrarono nel Kerala comunità di cristiani che pregavano nella lingua di Gesù, nel Aramaico. Ancora oggi il Kerala è la zona più cristiana di tutta l'India. L'esempio di Tommaso ci renda coraggiosi i testimoni del Vangelo, pronti ad affrontare ogni difficoltà per annunciare Gesù risorto. Le reliquie dell'Apostolo Tommaso sono conservate a Ortona. Mi sono giunte con avventurose peregrinazioni. E ancora lì vengono venerate. Chiediamo la grazia di imparare dai nostri antichi l'amore per gli Apostoli. e di imparare a sentirci una Chiesa radunata attorno agli Apostoli, radunata attorno a Gesù Cristo. Santo Tommaso, Apostolo, prega per noi. Preghiamo gli uni per gli altri. Buona giornata. Sialudato Gesù Cristo.